Dopo i 700.000 euro stanziati dal comune di Pesaro due mesi e mezzo fa per ricostruire il campo sportivo di Vismara, devastato dall'alluvione di maggio 2023, quando esondò il vicino fosso della Ranocchia, arriva un'ulteriore boccata d'ossigeno per la società calcistica giallorossa. Altri 50.000 euro dalla regione Marche, stanziati su indicazione del consigliere Nicola Baiocchi, per sostenere tutte le spese in cui è stato costretto il Vismara in questi ultimi dieci mesi. Ha subito grossissimi danni, non solamente materiali, ma anche tutte le situazioni che sono conseguenziali all'alluvione, quindi la gestione, la necessità di doversi rivolgere ad altre strutture sportive per essere ospitata, quindi le maglie che sono state danneggiate, quindi tutto ciò che a livello ordinario deve servire per la gestione annuale di una stagione sportiva. Quindi ho pensato di aiutare questa società di Pesaro, perché è una società storica, è un quartiere molto importante della città di Pesaro e quindi è un contributo che la regione Marche, che con il sottoscritto abbiamo voluto destinare in maniera fattiva per non far morire praticamente una società storica di Pesaro. In maggio del 2023 ha cambiato proprio completamente la storia del Vismara, perché si è ritrovato da uno dei campi più belli della città a senza campo. Sul subito c'eravamo un po', diciamo, il nostro pensiero, soprattutto il mio, era stato di dire basta, perché purtroppo non vedevamo, diciamo, la luce in fondo al tunnel, perché in quel momento era tutto buio. Poi piano piano abbiamo ricominciato, ci siamo rivolti alle varie istituzioni, di cui anche a Baiocchi, perché comunque pensavamo che per il quartiere è stata, cioè la polisportiva è una cosa molto importante. Noi abbiamo 200 bambini che vengono, 200 tesserati che vengono ad allenarsi, che vengono qui dove i genitori sanno che è un posto sicuro, dove lo sport è prima di tutto. Sono dei soldi che si stanziano al velo del bilancio, che ogni consigliere ha a disposizione. Io la cifra che avevo a disposizione l'ho destinata tutta qui, perché mi sembrava giusto aiutare una società in difficoltà. Anch'io vengo comunque sia dal mondo del calcio, ho fatto il dirigente per una vita, quindi mi sembrava corretto dare una mano a questa società. Priorità di ridare vita ad un quartiere che sembrava morto. E questo devo dire grazie sicuramente alla Regione e all'Avvocato Baiocchi che ci ha destinato questi soldi. Con questi soldi ci ha permesso di continuare l'attività, di andare a allenarsi nei campi fuori, qui vicino. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutte le società di Pesaro che hanno dimostrato una disponibilità enorme nei nostri confronti. Speriamo che questo impianto venga ripristinato il primo possibile, però ripeto, devo dire che questo contributo è stato abbastanza importante, se non dire fondamentale.